Se avete bisogno di account moddati, account glitchati, aggiunta di soldi o rango all'interno del vostro account per PS4 su GTA 5 online Vi invito ragazzi a contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione Offriamo questo servizio di recovery per i vostri account Se ragazzi ne avete bisogno troverete i contatti dove potermi contattare in descrizione E' consigliato a contattarmi su Telegram E ora ragazzi non vi rubo altro tempo, vi lascio al video Buona visione Non le cambierei mai con te, non rispondere al tuo ex, ho una freccia con me Signori e signori benvenuti in questo nuovo video Io sono Krix, oggi ragazzi siamo qui tornati incredibilmente ragazzi miei Per mostrarvi e presentarvi un nuovo money glitch Ragazzi prima di iniziare vi dico che ci stiamo avvicinando all'uscita del nuovo aggiornamento Quindi se non volete farvi cogliere in preparati troverete il link dove potermi contattare per account moddati Come anche aggiunta di soldi o meglio aggiunta di milioni e milioni di dollari all'interno del vostro account Potete ragazzi contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione Il nuovo DLC ragazzi si sta avvicinando quindi se non volete farvi cogliere in preparati Potete benissimamente contattarmi per questo servizio che tratta sia vendita di account moddati Come anche ragazzi aggiunta di milioni all'interno del vostro account Quindi se volete comparare tutti i prossimi contenuti del nuovo DLC Fate bene a farvi un giro nel mio canale Telegram Mi contattate in chat privata su Telegram e acquistate ragazzi o un account moddato O dei milioni che appunto andremo a mettere nel vostro account In questo modo ovviamente pagando una piccola soia riuscirete a fare veramente tantissimi soldi Acquistando quindi i contenuti del prossimo aggiornamento Se ragazzi non volete farvi cogliere in preparati vi lascerò ovviamente i links nella descrizione Chiusa parentesi ragazzi oggi siamo qui in cui vi mostrerò un nuovo money glitch E questo nuovo money glitch ragazzi è nient'altro che una versione già postata Come vi ho detto anche nello scorso video Rockstar siccome sta lavorando a questo nuovo aggiornamento Non sta dando più di tanta importanza ai server Quindi questi glitch ragazzi che per il momento ci sono sono ancora funzionanti È da circa una settimana più o meno che funzionano questi glitch Quindi è molto molto figo Quindi bene GG Rockstar Quindi possiamo ragazzi ancora approfittare prima che sia troppo tardi Quindi ovviamente se non volete farvi cogliere in preparati dal nuovo DLC O mi contattate per l'aggiunta di milioni O vi fate i glitch ragazzi In questo modo sarete a posto per provare i prossimi appunto contenuti Che verranno rilasciati su GTA Online Questo glitch ragazzi è veramente facilissimo È nient'altro che una versione 2 del metodo che vi ho già postato E molto presto ragazzi arriverà anche una terza versione Sì a riguardo dei soldi infiniti Come anche come avete letto da titolo anche per questa seconda volta Come avere la LG a un milione di dollari Quindi in entrambi ragazzi questi 3 metodi Di cui il primo ve l'ho già postato Il secondo è questo qui E il terzo arriverà Vi farò vedere appunto come poter avere Sia la LG a un milione di dollari Come anche utilizzarla per fare i glitch Quindi avere un milione, un milione, un milione eccetera eccetera Quindi veramente ragazzi fantastico Prima di iniziare Ovviamente vi invito a lasciare il vostro mitico pollicione in sub bomba Che a me aiuta veramente tantissimo Mi raccomando ragazzi se volete aiutare un fra su YouTube Adesso subito a lasciare un mi piace a questo video Vi dico che questo glitch funziona inoltre su PS4, Xbox One e PC Anche se in questo video ragazzi vi andrò a presentare soltanto i passaggi per PS4 Ovviamente poi per chi ha un computer o una Xbox One Vi lascerò gli step per poter appunto fare questo glitch nella descrizione Come anche nel mio canale Telegram Quindi ragazzi andate a controllare nel mio canale Telegram E troverete lì la guida per fare questo glitch Come anche sia appunto fare questo glitch Come anche avere la LG a un milione di dollari Detto questo ragazzi vi invito a seguirmi su Instagram E partiamo subito appunto con la spiegazione di questo video Allora molti di voi probabilmente non avranno visto l'ultimo video Ne sono sicuro Quindi vi vado a spiegare un attimo come funziona Diciamo questa fusione tra un veicolo normale E una LG Retro Custom Semplicemente la LG Retro Custom modificata al massimo vale all'incirca sui 960.000 dollari Ebbene noi per portare questo valore da 960.000 a un milione preciso Dovremo praticamente utilizzare un veicolo come duplicazione Quindi un veicolo da voler duplicare O meglio noi andiamo a utilizzare la LG Retro Custom come duplicazione Però ovviamente il veicolo che verrà rimpiazzato Ecco dovrà essere non una LG RH8 perché è gratis Quindi non ha appunto valore di vendita Di conseguenza quando andiamo a sostituire la RH8 con la Retro Custom O meglio la Retro Custom con la RH8 Appunto il valore non sale E quindi per portare la LG a un milione Quello che ci serve è soltanto un veicolo Che andandolo a vendere supera almeno i 50.000 dollari Perché comunque considerate da 970.000 C'è bisogno di 30.000 dollari per portare la LG a un milione Quindi dovremo appunto utilizzare un veicolo Che andandolo a vendere supera i 50.000 dollari Che sommati alla Retro Custom varrà a fare un milione di dollari Quindi un veicolo come potrà essere per esempio la Buffalo S Un veicolo che comunque superino ragazzi almeno i 60.000 dollari Il veicolo migliore a mio parere per fare questo glitch È la The Cluster Rhapsody Ad un prezzo di 140.000 dollari E potete ragazzi trovarla sul sito di Southern San Andreas Su superautos.com Questo veicolo costa 140.000 dollari E andandolo a vendere sono all'incirca 50.000 dollari Quindi diciamo che è il veicolo perfetto per fare questo glitch Perché 50.000 dollari sommati ai 976.000 della LG Retro Custom Sono appunto un milione di dollari Dovete sapere che quando fate i glitch E andate a usare veicoli come per esempio Faggio O veicoli come la RH8 Questi veicoli hanno un valore di vendita proprio Che appunto andando a essere usati con questi glitch Quindi magari con una RGRH8 Custom O comunque sia una Sultan RS Questi appunto veicoli vengono sommati Il loro valore di vendita Con il valore di vendita del veicolo che vorrete duplicare Quindi appunto è per questo che vi dico di usare Un veicolo che andandolo a vendere Supera almeno 50-60 Basta che comunque ragazzi vi faccia arrivare la vostra LG a un milione di dollari Quindi fatevi magari una ricerca Per vedere qual è il veicolo migliore E appunto andate semplicemente a usare quel veicolo Per andare a sommare il suo valore di vendita Con il valore di vendita della LG Retro Custom In questo modo ragazzi avrete creato appunto la LG da un milione di dollari Un ringraziamento ragazzi a DarioG88 E allo staff del canale Solo Glitch di Massimo M5S Che hanno trovato questa patch per appunto avere questa LG a un milione di dollari Quindi ragazzi il discorso tutto molto semplice E questo è quanto per quanto riguarda insomma Avere la LG a un milione di dollari Ovviamente vi andrò a mostrare in questo video Come poter eseguire questo glitch correttamente Quindi avere ogni LG che andate a duplicare un milione di dollari Ed è veramente ragazzi molto molto semplice In ogni caso prima che iniziate a commentare Se funziona con altri veicoli vi dico di no Potete fare questo glitch Si con veicoli casuali per poter sommare il valore di vendita Però dovrete ragazzi utilizzare soltanto veicoli custom Non la Deluxe o l'Oppressor Ma appunto veicoli custom come LG Retro Pfister Retro Nero Custom Insomma Comet Custom E chi più ne ha più ne metta Tutto molto semplice Questa seconda versione ragazzi non ci richiederà neanche di avere la mira manuale Ed è veramente molto molto semplice Vi ricordo i passaggi per fare questo glitch su PC o su Xbox One Saranno all'interno della descrizione Io ragazzi spero abbiate capito insomma come funziona questo glitch Per avere la LG a un milione E direi che possiamo subito partire dai requisiti per fare questo glitch Per fare questo glitch ragazzi ci servirà inizialmente una base operativa La base operativa ragazzi dovrà essere piena Quindi comprate delle LG RH8 E le mettete all'interno della base operativa All'interno della base operativa dovremo avere un veicolo che vogliamo duplicare Quindi nel mio caso andrò a utilizzare la LG Retro Custom Con targa personalizzata All'interno della base operativa Per fare questo glitch ragazzi non serve avere targa personalizzata Però è consigliata utilizzarla Questo glitch per chi ha visto già gli altri metodi Sa già come funziona E molto probabilmente avrà già capito Che appunto alla fine del glitch La targa cambierà Quindi non ci servirà per forza targa personalizzata Perché ogni duplicazione avrà la sua targa Quindi è per questo che vi consiglio Vabbè di utilizzarla Sì però potete anche non utilizzarla È indifferente Ci servirà una Wenger modificato e acquistato All'interno della nostra base operativa Poi un centro operativo mobile Con lo slot numero 3 Il deposito veicolo personale E all'interno ragazzi del deposito veicolo Dovrete averci una LG RH8 È molto importante Inoltre ci servirà un appartamento a 10 posti di lusso Quindi appartamenti come Tinsel Tower Come Del Perro Che sarebbe l'appartamento alla spiaggia L'appartamento di Eclipse Tower Quindi insomma avete capito ecco di quali appartamenti stia parlando Ci servirà questo appartamento perché semplicemente dovremo avere un invito ad un colpo avviato Quindi potrà essere l'invito ad una preparazione Ad una missione Ad un colpo Un invito Però non Mi raccomando non della base operativa Ma appunto dell'appartamento Quindi l'invito dell'appartamento sarebbe Diciamo in un certo senso La Pacific Standard Il colpo evasione Il colpo alla flica Insomma basta che Io ho detto Pacific Standard Avete già capito Quindi una preparazione ragazzi Del colpo dell'appartamento Quindi potrà essere un invito O ad un colpo finale O ad una preparazione O quello che è Basta che appunto avete questo invito Insomma di un colpo Nell'appartamento E quindi disponibile nel vostro cellulare Se ovviamente non vi arriva subito Dovrete uscire dalle proprietà Dove avete il vostro logo di rientro E aspettare finché appunto Lester O comunque sia Il personaggio con cui state eseguendo il colpo Vi manderà appunto l'invito per continuarlo Molto semplicemente consiglio di fare Il colpo alla flica Che sarebbe il primo colpo Che si fa la prima missione in due giocatori Quindi è l'unico colpo ragazzi Che si fa in due giocatori Quindi completate la prima missione del sopralluogo E restate sulla seconda In cui dovrete andare a rubare una Kuruma Quindi quando avrete la missione della Kuruma Ebbene non toccate più appunto l'appartamento Inoltre ci servirà quindi Del Rhapsody all'interno dell'appartamento Dei 10 posti Quindi consiglio ragazzi di utilizzare le Rhapsody Perché appunto come vi ripeto Il valore di questa Rhapsody Verrà poi sommato al valore della LG Retro Custom Avendo così la LG a 1 milione di dollari Quindi più Rhapsody avete all'interno Dell'appartamento Più volte potete fare questo glitch E più insomma soldi andrete a fare Quindi semplicemente ragazzi Fate un milione per ogni duplicazione Ed è veramente ragazzi molto molto semplice Potete anche utilizzare una sola Rhapsody Per inizialmente applicare il valore A un milione a una singola LG Per poi utilizzare altre LG RH8 Per appunto poi far restare il valore Sempre a un milione Però non dover ogni volta andare a spendere 140.000 dollari Però considerate che comunque Se vi riempite un garage di Rhapsody Che appunto poi andrete a duplicare Avrete fatto ragazzi 10 milioni di dollari Quindi è veramente fantastico Quindi i soldi che andrete a spendere inizialmente Li riguadagnerete indietro poi Andando appunto a fare questo glitch Quindi è veramente ragazzi Molto molto semplice L'ultimo requisito che ci servirà Su PS4 Sarà un'attività recente Quindi un'attività recente Potrà essere una taglia Potrà essere un acquisto di vestiti Di veicoli Di armi Di insomma 1v1 deathmatch Eccetera eccetera Quindi un qualsiasi Tipo di attività recente Con la quarta opzione Dove ci sarà scritto Avviagiti online Io spero ragazzi Che avete capito questi requisiti Quindi Ricapitolando Base operativa piena LG retro custom Con targa personalizzata O meno È indifferente All'interno della vostra base operativa Una vengar acquistato E modificato All'interno della vostra base operativa Centro operativo mobile Con slot 3 Deposito veicolo personale E una LG RH8 All'interno del deposito veicolo personale Un appartamento di lusso A 10 posti Per poter avere l'invito Ad un colpo Quindi vi ripeto Il colpo Al pacific standard Un sopralluogo Magari Una preparazione Ad un altro colpo Eccetera eccetera Quindi non quelli della base operativa Ma appunto Quelli dell'appartamento Infine Ci serviranno quindi Dei veicoli All'interno del garage A 10 posti Quindi il mio consiglio Quello di usare le rhapsody Per avere la LG A un milione di dollari E infine L'attività recente Per PS4 Questi semplici ragazzi requisiti Ci serviranno a fare questo glitch Se ovviamente ragazzi Non avete soldi Per comprare questi requisiti Vi consiglio di effettuare Un servizio di recovery Per il vostro account Sia perché comunque Si sta per avvicinare Il nuovo DLC Come anche Per appunto Avere questi requisiti Quindi fate una recovery Per il vostro account Ovviamente pagando E riceverete appunto I milioni Per fare questo glitch Quindi quando avrete Tutti questi requisiti Ragazzi Allora potrete iniziare Con il glitch Ed è ragazzi Veramente molto molto semplice Andiamo quindi a vedere Come eseguirlo La prima cosa da fare È andare in GT Online In una sessione solo Ad invito Una volta fatto ciò Ragazzi dovremo recarci All'interno della nostra base operativa E vi ricordo Che la base operativa Ragazzi dovrà essere piena Dovremo avere anche Il veicolo Che vogliamo duplicare Al suo interno E una volta fatto ciò Che saremo all'interno Della sessione Vi ripeto Che vi servirà Il colpo Dell'invito All'appartamento Cioè O meglio L'invito all'appartamento Per il colpo Quindi vi ripeto Per avere questo invito Prima di iniziare con il glitch Semplicemente Uscite fuori dalle proprietà Quando sarete fuori Dalle vostre proprietà Aspettate un Circa 10-15 minuti Finché appunto Il tipo Con cui state facendo Il colpo Non vi inviterà Appunto al colpo Vi ripeto Potrà essere il colpo All'Africa La Pacific Eccetera eccetera Quindi quando vi sarà Arrivato il colpo Allora a questo punto Potrete iniziare Con il glitch Quindi molto semplicemente Entrate all'interno Della vostra base operativa Vi recate ragazzi Da questa parte Da questa parte Troverete questo cerchio Blu Che vi porterà All'interno Del vostro Avenger Quindi una volta Che sarete All'interno Della Avenger Ragazzi dovrete Quindi entrare Al suo interno Una volta che sarete Al suo interno Andate semplicemente A premere Il tasto PS E a questo punto Ragazzi vi servirà Un'attività recente Come ho detto prima Quindi potrà essere Un'attività recente Dove magari Un vostro amico Ha magari rubato Un negozio Ha comprato veicoli Armi Vestiti Ha riscosso Taglie Eccetera eccetera Comunque Una qualsiasi tipo Di attività recente Con la quarta opzione Dove ci sarà scritto Avvia GT Online Una volta che quindi Avremo trovato La nostra attività Semplicemente Andiamo a posizionarci Con le freccette direzionali Su Avvia GT Online A questo punto Doppio tasto PS E ritorniamo All'interno Del gioco Notate che Adesso Andando a premere Il doppio tasto PS Avrete l'attività Già pronta Quindi pronta Per essere avviata E quello che Appunto vi serve E quello che vi serve Quindi Restando quindi Selezionati su Avvia GT Online Andate semplicemente A premere il doppio tasto PS E avrete l'attività Già pronta Ora quindi Una volta fatto ciò Dovrete recarvi Da questa parte Quindi più o meno In fondo Da questa parte Troverete questa porta Che vi porterà Al portellone Per poter entrare Nell'abitacolo Quindi come per il glitch precedente Ragazzi dovremo Entrare all'interno Della Wenger Solo che questa volta Invece di andare A partecipare Ad un nostro amico Dovremo semplicemente Avere un'attività Di GT Online Recente Quindi andiamo A posizionarci Sul menu A tendina A Wenger Dove ci sarà scritto Entra nell'abitacolo Quando saremo Su questo menu A tendina Quello che dovremo fare Sarà molto velocemente Schiacciare X Per confermare Di voler entrare Nell'abitacolo A questo punto Ci sarà una schermata nera E molto 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 Velocemente In questa schermata nera Dovrete quindi Andare a premere Doppio tasto Doppio tasto PS Schiacciare X Su avvio GT Online E il gioco Ci sarà una schermata Di avviso nera Quindi molto velocemente Andate a confermare Di voler entrare Nell'abitacolo Quindi X Per entrare Nell'abitacolo Ci sarà una schermata nera In questa schermata nera Molto velocemente Doppio tasto PS Si aprirà la schermata A via GT Online Una volta fatto ciò Ci sarà una schermata Di avviso All'interno del gioco Che vi chiederà Se vorrete uscire In questa schermata Ragazzi Andate a declinare O meglio O a rifiutare Con il tasto cerchio Se avrete fatto Questo passaggio Correttamente Vi praticamente Spawnerete Buggati All'interno Della vostra base operativa Quindi fate molta attenzione Molto velocemente Quindi quello che dovrete fare Sarà X Doppio tasto PS X E cerchio Mi raccomando X Per entrare nell'abitacolo Doppio tasto PS X e cerchio Ripeto X Doppio tasto PS X e cerchio Veramente ragazzi Molto molto facile Dai non ditemi Che non avete capito Questo step Dai cazzo A questo punto Saremo ragazzi Buggati all'interno Della nostra base operativa Quello che dovremo fare Sarà aprire il telefono E dovremo a questo punto Andare a Quindi joinare Il colpo Che stiamo Ovviamente completando Quindi nel mio caso Sarà il colpo Alla flica Ospitato da Lester Quindi andiamo a confermare Di voler avviare Il colpo Una volta fatto ciò Aspettiamo il caricamento E dopo questo caricamento Ragazzi Il gioco ci porterà All'interno del nostro Appartamento Quindi è per questo Che vi servirà Quindi appunto L'appartamento È molto importante Quindi confermate Di voler avviare Il colpo Una volta fatto ciò Il gioco vi caricherà La lavagna Dove ovviamente Ci saranno scritte Le varie cose Le varie cose da fare Per il colpo E quello che dovrete fare Sarà quindi Uscire con il tasto cerchio Quando sarete usciti Con il tasto cerchio Molto semplicemente Vi recate all'interno Del vostro garage Quindi sarete All'interno del vostro appartamento E ora per duplicare Semplicemente Andiamo ragazzi Ad entrare All'interno del garage Una volta che quindi Saremo ragazzi All'interno del garage Adesso il glitch sarà Diciamo Per l'80% finito Ora fate molta attenzione Perché vi andrò A spiegare Un passaggio importante Se saltate questo passaggio Ragazzi dovrete Cambiare sessione E quindi di nuovo Aspettare 10-15 minuti Che vi arriva l'invito al colpo Eccetera eccetera Quindi fate molta attenzione Una volta che vi sarete recati All'interno del vostro garage Dovrete salire su un veicolo Che appunto volete duplicare Quindi molto semplicemente Salite ragazzi Al suo interno Aspettate O comunque sia Sentite Dall'audio di gioco Se il personaggio Metterà in moto Appunto il motore della macchina Una volta fatto ciò Che il personaggio Avrà messo in moto Il motore della macchina Andate ad aspettare Dai 5 ai 10 Secondi all'interno del veicolo Con il motore acceso Una volta fatto ciò Ragazzi premete Il tasto R2 O il tasto L2 Per uscire dal garage Quindi fate ragazzi Questo step Come ve l'ho spiegato Perché se Andrete a salire subito In un veicolo E andrete ad uscire Dal vostro appartamento Spawnerete vicino Alla base operativa A piedi È quello che non vi serve Quindi Quello che vi serve È appunto Entrare all'interno del veicolo Aspettare 10 secondi Con il motore acceso Una volta fatto ciò Uscire dal garage Se avrete eseguito Questo step Correttamente Io in questo caso Ragazzi lo sto Andando a fare Con la Rhapsody Come vi ho detto prima Per sommare Il valore di vendita Di questa Rhapsody Con la LG Retro Custom Quindi è molto importante Una volta fatto ciò Quindi uscirete dal garage E spawnerete Dopo all'incirca Un bug strano Un bug di 2-3 secondi Ai piedi Della vostra base operativa A questo punto Quindi spawnerete Con il veicolo Ripeto Vicino alla base operativa E dovrete adesso Ritornare all'interno Della base operativa Quindi quando sarete Spawnati Guidate verso Il cerchio giallo Per entrare All'interno Della base operativa E ci sarà La schermata Base operativa piena Quello che dovrete fare Su questa schermata Sarà semplicemente Andare a confermare Con il tasto X E a questo punto Non dovrete ragazzi Toccare più niente Quindi confermate Lo scambio Di base operativa piena Aspettate che il caricamento Venga effettuato Una volta fatto ciò Vi ritroverete All'interno Della vostra base operativa Con il menu A tendina Dove vi chiederà Dove vorrete sostituire Il veicolo Naturalmente Adesso ci toccherà Quindi duplicare Questo veicolo E quello che dovremo fare Sarà andare a Selezionare La LG Che insomma Vogliamo duplicare Con questa Rhapsody O comunque sia LG RH8 Se avremo fatto Prima o dopo Il passaggio Per avere la LG A un milione di dollari Con appunto La LG Retro Custom Quindi per prima cosa Tenete a mente Dove si trova La LG Retro Custom Quindi in che posizione Si trova la LG Retro Custom Per appunto Fare la duplicazione Quindi tenete A seconda Delle posizioni Tenetela a mente Quindi nel mio caso Sarà la LG Retro Custom Allo slot numero 1 Allo slot numero 1 Quindi molta attenzione Io mi ricordo Che la LG Retro Custom Che ho sostituito Si trova Allo slot numero 1 E quindi molto semplicemente Vado a confermare La sostituzione Con la Rhapsody Con appunto La LG Retro Custom Allo slot numero 1 Quindi a questo punto Noteremo che La LG Non diventerà Un veicolo Come altri Ma resterà Ancora Una LG Retro Custom Quindi Spero ragazzi Abbiate capito Tutto molto semplice Quindi ricordate Dove si trova La posizione Della LG Retro Custom Che state andando A duplicare Quindi che volete duplicare Una volta che vi sarete ricordati Andate quindi A confermare La sostituzione Con la LG Retro Custom Che appunto Vi siete ricordati E che volete Volete duplicare Una volta fatto ciò Andate a confermare La sostituzione La sostituzione Non diciamo Sarà effettiva Perché appunto La LG Retro Custom Resterà ancora Una LG Retro Custom Anche se l'avremo sostituita Ed è quello Che appunto Ci serve Ora quindi Come avete visto dal video Dovrete uscire Semplicemente Dalla vostra base operativa E noterete Che la targa Sarà cambiata Quindi è per questo Che vi dicevo Che la modifica Non è effettiva La modifica Diventerà effettiva Fin quando Non andrete Ad uscire Dalla Dalla base operativa Con la vostra LG Retro Custom Quindi Praticamente ragazzi Se avete fatto attenzione Avete notato Che la targa Che prima Aveva la Rhapsody Ora ce l'ha La LG Retro Custom Quindi vuol dire Che questo glitch Ha funzionato correttamente E che quindi La Rhapsody È stata Trasformata In una LG Retro Custom Con la stessa targa E con il valore Di vendita A un milione Di dollari Quindi è veramente Ragazzi Molto molto semplice Sto cercando Di andare piano E spiegare Con più calma Possibile Quindi Spero ragazzi Che molti di voi Abbiamo capito Come funziona Questo glitch Ora quindi Semplicemente Per salvare Questo veicolo Dovremo Andare a chiamare Il nostro centro operativo Mobile E quindi Parcheggiare Il veicolo Al suo interno Una volta fatto Ciò Il veicolo Ragazzi Verrà salvato Correttamente E potremmo Decidere Se a questo punto Continuare A duplicare O meno Come vedete Ragazzi Nel centro operativo Mobile Io adesso Ho passato Questo veicolo E che significa Che si è salvato Correttamente Quindi se vado A controllare Sia nel centro operativo Che nel appartamento Dove sto facendo Il glitch Che ho Due Retro custom Quindi la prima Originale Che verrà trasferita All'interno Appunto Dell'appartamento E la seconda Duplicata Che appunto L'avrete All'interno Del vostro Centro operativo Mobile Quindi Tutto ragazzi Molto Molto Semplice A questo punto Se chiaramente Vorremmo ripetere il glitch Ci basterà Rieseguire tutti gli step Da capo L'unica cosa Che cambierà Adesso sarà Che se Appunto Vorrete Rieseguire il glitch Dovrete semplicemente Prendere la LG retro custom Dal vostro centro operativo E portarla Di nuovo Nella base operativa Quindi sostituire Con una nuova LG RH8 Quindi una volta Che avrete fatto questo Ragazzi potrete di nuovo Rieseguire il glitch Da capo Quindi avete visto Che è veramente Molto molto semplice E comunque potete Eseguire questo glitch Quindi questo passaggio Per duplicare auto Come anche Allo stesso tempo Insomma Poter applicare Il valore Insomma Della Della rhapsody Insieme a quello Della LG retro custom Ovviamente io Ho utilizzato Soltanto Una rhapsody Per appunto Avere Il valore Di vendita Della LG retro custom A un milione di dollari Per il resto Ho usato LG RH8 E il glitch Mi ha funzionato Correttamente Ovviamente Più rhapsody Avete all'interno Dell'appartamento Più avrete LG Da un milione Di dollari Quindi inizialmente Fate Il glitch Con la rhapsody Per appunto Trasferire Il valore Di vendita Una volta Fatto ciò Notate Quindi controllate Se andando a fare Il glitch Con la LG Da un milione L'andate a sostituire Con una RH8 Se una volta Fatta la sostituzione La LG Verrà rivenduta Allo stesso prezzo Invece che un milione Di dollari Allora Ed è bene Fare questo glitch Con le rhapsody Quindi più rhapsody Avete all'interno Dell'appartamento E più Ovviamente Andrete a duplicare LG Da un milione Di dollari Per rieseguire Questo glitch È veramente Molto semplice Ci richiamo All'interno Della base operativa A piedi Entriamo All'interno Della wenger Una volta Che saremo All'interno Della wenger Ci teniamo Pronti Con il doppio Dasto ps Sull'attività Recente Quindi molto Semplicemente Ci richiamo Dalla parte Quindi in fondo Da questa parte Dove Insomma ci sarà La porta Per entrare Nell'apitacolo Quindi questa porta Blindata E molto semplicemente Quando ci si aprirà Il menu Dove ci chiederà Se vogliamo Entrare nell'abitacolo Ebbene su questo menu Ragazzi dovremo Quindi confermare Con il tasto X Di voler entrare Nell'abitacolo Del nostro wenger A questo punto Ci sarà una schermata Nera E in questa schermata Nera ragazzi Molto velocemente Andiamo a premere Doppio tasto ps Si aprirà la schermata A via gt online Schiacciamo X Su a via gt online Una volta fatto ciò Nel gioco ci sarà La schermata di attenzione E dovremo rifiutarla Con il tasto cerchio Se avremo fatto il passaggio Correttamente Dopo un piccolo caricamento Ci ritroveremo All'interno Della nostra base operativa Glitchati Vuol dire che allora Questo passaggio L'abbiamo eseguito Alla grande Adesso Andiamo quindi Ad alzare il telefono Andiamo nelle attività E andiamo ragazzi A partecipare Al colpo Che stiamo eseguendo Vi ricordo che nel mio caso Sarà il colpo Alla fliga Una volta fatto ciò Aspettate che la lobby Venga caricata Quando avrà tutto caricato Uscite O dalla lobby O comunque sia Dalla tabella O lavagna Non so come si chiama Per appunto fare il colpo E vi recate All'interno del garage Adesso nel garage Prestate molta attenzione Vi ricordo Quando sarete all'interno Del garage Andate semplicemente A prendere una LG RH8 O comunque sia Una Rhapsody Non ha importanza Tenete Mi raccomando Tenete bene a mente Il codice della targa Perché noterete che Appunto la targa Poi verrà passata Sull'altra duplicazione Della LG Retro Custom Quindi Molto semplicemente Quello che dovrete fare Una volta all'interno Del garage Sarà Entrare All'interno Della LG RH8 O comunque sia Il veicolo Che vogliamo usare Per fare la duplicazione Quindi Dovremmo entrare Al suo interno E aspettare All'incirca Un 10 secondi Dico di aspettare 10 secondi Perché il personaggio Dovrà mettere in moto Il veicolo E appunto Se andrete ad uscire Troppo presto Con il veicolo Diciamo ancora fresco In un certo senso Fuori dal vostro garage Vi ritroverete Nella base operativa A piedi Quindi Non è quello che vi serve Quello che vi serve Sarà Entrare all'interno Del veicolo Aspettare 10 secondi Quando saranno passati Questi 10 secondi Uscite con il veicolo Dal garage Vi ritroverete quindi Ai piedi Della base operativa E ora Semplicemente Ritornate al suo interno Confermate La schermata Base operativa piena Una volta fatto ciò Aspettate il caricamento Della base Quando vi si aprirà Il menu A tendina Dove vi chiederà Dove volete sostituire I veicoli Molto semplicemente Andate a Tenere a mente Ricordate Tenete bene a mente Dove si trova La vostra LG retro custom Che state Andando a Duplicare A questo punto Semplicemente Andate ragazzi A confermare Quindi la sostituzione Con la RG RH8 Raps Di quello che avete Con la LG retro custom Quindi ripeto Tenete bene a mente La posizione Dove si trova La vostra Retro custom A questo punto Una volta confermato Lo scambio Andate a prendere La LG retro custom Che appunto Avete appena sostituito Una volta fatto ciò Semplicemente Uscite dalla base Con il veicolo Noterete che Una volta che sarete Usciti fuori dalla base Con il vostro veicolo La targa sarà cambiata E allora vuol dire Che questo glitch Lo avrete eseguito Alla perfezione Adesso quindi Anche questo veicolo Avrà a seconda di quello Che abbiamo utilizzato O un milione O comunque sia Sempre un milione Dipende chiaramente Dal veicolo Custom Che stanno andando a duplicare E il veicolo Che volete duplicare E dovrete semplicemente Ragazzi andarlo A salvare E molto molto Importante Quindi una volta salvato Fate questo procedimento Ragazzi per tutte E tutte Mi raccomando Le duplicazioni Che vorrete O comunque sia Tutti i vari garage Che appunto Avete all'interno Del vostro account Chiaramente Chiaramente se Vi ripeto Non avete I requisiti Per fare Questo glitch Potete Benissimamente Contattarmi Per un servizio Di recovery Dove Aggiungeremo Insomma Dai 15 ai 45 milioni Nel vostro account E con questi milioni Ragazzi potrete Benissimamente Comprarvi Questi requisiti Per appunto Fare questo glitch Questo glitch Ragazzi è veramente Molto molto semplice Come avete potuto vedere È veramente facilissimo In circa ragazzi 5 minuti Riuscite a duplicarvi Probabilmente L'intero garage Che Avete nel vostro account Io comunque Considerate che In mezz'ora ragazzi Mi sono riempito 3 garage Da 10 posti Con delle rhapsody Che poi Appunto Queste elegi Che ho sostituito Con le rhapsody Me le varrà A un milione di dollari Quindi è veramente Ragazzi Fantastico Detto questo ragazzi Nulla Che dire Io spero Ebbene apprezzato Vi ricordo ragazzi Che il DLC Si sta avvicinando Quindi se non volete Farvi cogliere Impreparati dal nuovo DLC Comprate ragazzi Gli account moddati Che sto vendendo io O comunque sia Fate un servizio Di recovery Per il vostro account Per l'aggiunta milioni Così quando arriverà Il DLC Ragazzi Sarete benissimamente Pronti Per acquistare Tutti i contenuti Quindi mi raccomando Ragazzi Non fatevi cogliere Impreparati Quindi acquistate Appunto i servizi Dal link che vi lascerò In descrizione Detto questo ragazzi Nulla Io vi saluto Vi ringrazio Ci becchiamo Molto presto Con tanti altri video Ne ho in mente Ragazzi Di portare A balanghe Qua sul mio canale Quindi Molto presto ragazzi Ci saranno Altri nuovi Fantastici glitch Vi darò aggiornati Anche per quanto riguarda Il glitch SP2MP Quindi il glitch Per avere tutto gratis Farò molto presto Un video a parte In cui ne parlerò Perché sono state scoperte Alte informazioni E niente Non vi rubo altro tempo Ragazzi Poi ne parleremo Appunto nel video Detto questo Nulla Io vi ricordo Che il canale Telegram E il gruppo Telegram Saranno qui sotto Nella descrizione Quindi andate a seguirmi Vi ricordo Facebook Instagram E Twitter Anche questi Nella descrizione Troverete ragazzi Tutti quanti Links nella descrizione Vi saluto Vi ringrazio Noi ci becchiamo Prossimo video O una prossima live Ve lo faccio Dooooooooooooooooooo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to Own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Tryna make it a life It's golden every touch Dreams of my own I've been working from home Grazie a tutti.